bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo 941 e oggi siamo tornati nella serie delle sette la seven series o qualcosa del genere con i nostri mitici gamberetti signori miei col sogno championship premier league champion league quel qualsiasi cosa che sia league il nostro sogno non lo dobbiamo raggiungere e lo raggiungeremo non si sa quanti anni ci vorranno quante stagioni ci vorranno ma noi dobbiamo riuscire a obiettivo a completare questo obiettivo ragazzoli allora allora di che stiamo a parlare non lo so e intanto vi ringrazio in anticipo per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto della rete a questa serie vi ricordo niente non vi ricordo nient'altro vi ricordo di stare bene in salute state tutti bene e tante belle cose allora ragazzoni noi abbiamo la partita con il forest green che non so dove sia in classifica noi per si per noi siamo sesti testi non interessa quello che facciamo nel nostro piccolo abbiamo in campo i titolari e con quelli dobbiamo giocare quindi non perdiamo tempo andiamo subito in campo simuliamo come al solito tutte le partite siamo a casa nostra contro il forest green partiamo grido di battaglia hashtag forza gambaretti forza gambaretti forza gambaretti tagli così 0 0 mamma mia che risultato brutto 0 0 contro il forest green tre sostituzioni sono usciti old delev e stack stackton sono entrati craston sullivan e slu ammonito di agugurara e satton va bene 0 0 raga è sempre un bonticino portato a casa sempre un punto portato a casa meglio un nuovo oggi che una gallina domani che sta di non lo so però meglio un punto portato a casa che qualcosa non lasciato indietro chi è che si lamenta tutte in prestito allora tutte accettate andare in prestito bene così tutte gennaio sarà contento di andare a giocarle tutte da un'altra parte luis di solito non mi piace mantarmi ma credo che avrebbe potuto fare la differenza non era l'avversario giusto luis dai luis non fare così non è l'avversario giusto luis faccio una canzone e non ti preoccupare prossima partita il 26 ottobre signori miei manteniamo la sesta posizione in campionato manteniamo la sesta posizione in campionato con 25 punti non è male vediamo un attimino la rosa come è combinata sono abbastanza messi bene raga non sono poi più di tanto stanchi quindi non perdiamo tempo simuliamo anche questa siamo ospiti contro lo stivage contro lo stivage vediamo cosa riusciamo a fare siamo partiti bene in campionato raga in campione sono partiti bene le coppe ovviamente le abbiamo lasciate perdere però adesso ci vorrebbe una bella vittoria dai e così in gol di stockholm e sluv bella così 2 a 1 siamo andati in vantaggio noi ci hanno pareggiato con wrestle revel e poi 2 a 1 vittoria di slev buono così buono così sono usciti nel frattempo sono anche usciti stockholm dell'eve però salivan e sluv va bene va bene va bene tre punti che fanno morale e che ci fanno salire in classifica al quinto posto con 28 punti per l'asile raga non siamo messi proprio malaccio 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 dai stiamo facendo un buon campionato riuscissimo a centrare la promozione già quest'anno sarebbe tantissima roba però non demordiamo non demordiamo ricordiamoci da dove siamo partiti ricordiamoci dove stiamo partiti e dove stiamo e dove vogliamo arrivare ecco dobbiamo questo mi sono impappinato va bene non fa nulla allora reso conto squadra 20 dovrebbe arrivare l'osservatore se non sbaglio e infatti aggiornamento dell'osservatore dalla scozia allora allora vediamo un attimino abbiamo questo drummondo che in questo portiere che un 63 79 raga si è perso strada facendo questo rifiutiamo poi abbiamo logan mcneill 66 86 questo potrebbe essere interessante non ancora ben capito giusto fa forse il difensore farà l'esterno sinistro lasciamolo lì poi abbiamo mitchell mamma mia 76 94 16 anni questo lo mettiamo dentro subito raga 76 94 questo deve crescere ma potrebbe avere un buon futuro poi abbiamo barry petterson 48 66 questo lo rimandiamo a casa logan campbell 65 89 può partire da 39 come si fa fa crescere uno del genere ma andiamolo via 56 78 dave johnson questo è the rock the rock abbiamo the rock signori mi abbia tolato the rock dave johnson questo va preso a prescindere abbiamo abbiamo the rock e noi lo lasciamo libero no the rock ma ha messo in squadra per forza poi abbiamo arthur mccain mccate mccase non so come si pronunci 47 65 no e poi abbiamo chi kirk mccachon 59 81 anche lui direi di rifiutarlo teniamo solamente questo logan mcneill per capire giusto anche se c'è un buon 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 punto di partenza ma capire giustamente come come lasciamolo lì tanto abbiamo nove mesi per seguirlo mi fate vedere the rock san vicino un attimino prima della giocare contro il layton mi fate vedere the rock come è combinato allora abbiamo race race raid che è un coc 77 91 buono ma c'ha 15 anni lucas wilson ha 18 anni attaccante destro 59 71 un 58 cioè c'ha potenziale c'è anche 59 ottimo poi abbiamo ala 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 stair michelle 16 anni esterno sinistro dai 76 94 questo è forte questo va allenato e poi dei johnson attaccante il nostro the rock signori miei il nostro the rock è un 50 c'ha potenziale 56 78 perfetto ricordiamoci che dobbiamo mettere questi in allenamento raga ricordiamoci che dobbiamo mettere questi in allenamento perché voglio in attacco voglio the rock in attacco voglio the rock signori miei allora noi abbiamo la partita contro il layton quindi un saluto un caro che saluto a falconero che si sta facendo la carriera con il layton ed è arrivato quadri in champions sta facendo sta appuntando anche lui al triplete signori miei solo che lui le gioca tutte e da ottobre forse che in stato la stagione è mitico un saluto a falconero ciao falco con buona 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 continuazione di di carriera allora noi lasciamo sempre titolari in campo una cosa voglio capire se che non è il nostro titolare migliore sì sì perché quello che dovrebbe entrare in campo wilding ancora infortunato perfetto noi non tocchiamo nulla raga continuiamo a giocare con loro se qualcuno si lamenta la porta è lì e se ne possono andare tranquillamente contro il layton signori miei ci vorrebbe una bella vittoria dai e 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 uno a uno mannaggia erano andati in vantaggio noi all'undi al decimo contone avevano pareggiato loro con wilkinson ezza porca miseria porca miseria dai tre punti avrebbero fatto comodo contro il layton tre punti contro il layton avrebbero fatto comodo allora aspetta un attimo noi possiamo fare gli allenamenti allora raid lo lasciamo o sullivan lo leviamo perché tanto non ci serve più allora attaccanti se non sbaglio c'è the rock che va allenato alleniamo the rock si così capisce che non deve fare più racing ma deve fare l'attaccante poi abbiamo wilson anche l'attaccante destro che ok leviamo brewitt che con questo sorrisino non convince nessuno e vediamo e abbiamo il terzino sinistro giusto sì perché portiere non abbiamo terzino sinistro lo dobbiamo allenare difensori centrali non ne abbiamo il centrocampista lo stiamo allenando sì sì confermato è il terzino è il carissimo michel michel sì allenati intercettazione elettore difensiva contropendi scivolata perfetto allenati lì zio va bene o i nostri giovani ci sono i nostri giovani ci sono bisogna crederci e farli crescere dai dai the rock da che te voglio fai sordì the rock te voglio fai sordì allora cosa è che si stanno lamentando non stiamo seguendo i piani la crescita dei nostri giovani lo sto fa zio ingaggio due giocatori due giocatori con meno di vent'anni con un potenziale superiore alla produzione media dei giocatori attualmente nel ruolo ecco sto facendo un attimo mi devi dare un attimo di tempo cavolo c'ho quel c'ho il centrocampista e il terzino sinistro che sono due bestie che per li metto in squadra vedi come cambiano le cose partita di coppa che coppa è questa l'efe cup aia l'efe cup contro l'etono oriente e raga questa me la gioco con i titolari questa me la gioco con i titolari perché che ovviamente saranno impegnati con le nazionali ma porca racia no bru perfetto ok bella così io speravo di poter giocare no la posso giocare con i titolari uh va bene va bene giochiamola con i titolari perché se non sbaglio la la fk è un obiettivo quindi andiamo a giocare così simuliamo vediamo se fuori casa riusciamo a ottenere un pareggio migliore rispetto al pareggio in campionato vinciamo e porca se non poteva vincere pure prima in campionato dai e dai e va bene dai stocco medele bocca e moniti delle vedi augurara tone verrà già fuori per crastone slu 2 a 1 prendi e porta a casa dai così passiamo il turno quindi un obiettivo dovremmo averlo raggiunto se non sbaglio abbiamo raggiunto un obiettivo possiamo fare ancora gli allenamenti alleniamo ancora i nostri giovani e aggiorni se non sbaglio wilson e michel salgono buono 51 e 59 bella si buona così questo non se non metterà un po potremmo anche già chiamarlo in prima squadra per schierarlo in qualche partita noi siamo quinti a 29 punti siamo siamo sul treno del playoff raga siamo sul treno del playoff e non si scherza dovrebbe arrivare l'osservatore se non sbaglio a breve può essere può essere può essere osservatore ci sei osservatore non c'è l'osservatore siamo contro il crew allora alcuni sono fuori dalla facciamo un po di sostituzioni raga perché sennò quelli in panchina tra un poco si lamenteranno tutti so perfettamente che non dovrei farlo però devo far giocare anche quelli che stanno in panchina altrimenti praticamente mi tra un poco mi 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 sbarellano tutti brewitt canyon se non sbaglio dovrebbe essere tornato facciamo giocare lewis dai facciamo giocare lewis perché se non sbaglio e infatti wilding è ancora rotto gioca lewis gioca lewis a sinistra gioca il pelatone quindi fesa qui gioca craston satton fuori per bulu so perfettamente che mi sto dando la zappa sui piedi e che la perderemo male questa partita raga ma purtroppo devo anche far giocare i panchinarie perché sennò succede un casicchio in panchina in panchina poi succede un casicchio tutti si lamentano che non giocano mai e quindi tanto siamo ospiti siamo fuori casa quindi rischiamo comunque di perderla anche se effettivamente fuori casa giochiamo meglio che in casa però io ci credo dai credo in tutta la mia rosa vediamo 2 a 0 per loro mamma mia sconfitta pesante sconfitta pesante perdiamo 2 a 0 contro il crevli e va bene vuol dire che la destina vuol dire che la destina magari era anche davanti a noi il crevli non me ne sono accorto scusate ma stavo cercando di ammazzare una zanzara allora grazie per mettere un gesto l'occasione va bene allora facciamo gli allenamenti andiamo avanti col calendario fino alla prossima partita il nostro the rock sala 51 grande the rock anche michele sala 52 bella così i nostri giovani crescono bene i nostri giovani crescono bene allora veniamo avanti con le giornate voglio vedere se arriva l'osservatore dall'inghilterra dove sta il mio osservatore indossato dovrebbe essere aggiornato eccolo qua mcnille è tornato dall'inghilterra ridosso della partita andiamo a vedere aggiornamento mensile partita spostata partita spostata qui c'è osallivan che contento apprezzo il tuo impegno perfetto così andiamo a vedere cosa ci ha portato mcnille dall'inghilterra allora abbiamo george roberts 69 89 è un po confuso sulla posizione in campo perché può fare sia l'attaccante che il difensore esterno sinistro è un po confuso però george roberts lo lasciamo lì jamie moore 62 84 non sembri male jamie moore voglio studiarti meglio e poi taylor evans un portiere 55 77 sei inguardabile teniamo loro due nella speranza che uno dei due possa essere qualcosa interessante anche se hanno degli overall molto bassi però lasciamo lì andiamo al ridosso della partita contro il boo non so che squadra sia quella lì raga il crew non ci abbiamo giocato ora col crew scusatemi ma non ci abbiamo giocato ora col crew no prima abbiamo giocato col crarley e oggi abbiamo col crew va bene tutte loro le sanno va bene ragazzi ho ridetto questo vediamo un attimo la classifica come ogni fine video vediamo un attimo la classifica veloce veloce siamo settimi mannaggia 29 punti cioè è bastata una partita per sprofondare dal quinto posto al settimo siamo settimi a 29 punti abbiamo un punto di vantaggio sul portvale che ne ha 28 e due punti è un punto sotto in marsfield town che è sopra di noi praticamente siamo lì siamo lì siamo lì stiamo perdendo un attimino il treno della perché lo swindon già 35 comunque continuiamo su questa strada che non stiamo andando male raga non stiamo per niente andando male detto questo vi ringrazio per guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti per il supporto che darete a questa serie noi ci vediamo sempre qui prossimamente con un prossimo contenuto e niente vi auguro una buona serata bella raga ciao